Il castigo per i crimini di Premiak ha avuto conseguenze inattese. La sua morte ha disattivato la nave, gli arti di anime sotto dei truffi. Non sapevo dovessero essere salvati. La rabbia provocata dalla loro morte ha spaventato le lanterne rosse. E sono stato cacciato da Ismolt. Mi avrebbero ucciso se non ci fosse stato proseguito. L'entità emozionale ha mostrato con passione il luogo di rabbia per il mio terribile errore. Ora so che lo spettro emozionale richiede evolibri. La rabbia delle lanterne rosse deve punire i trasgressori. Ma non posso eliminare indiscriminatamente chi merita con passione.